Ciao ragazzi bentornati sul mio canale, spero che state bene, io sono in forma allora oggi faremo questo trucco che porto allora praticamente è un trucco molto molto semplice ed è un'idea di una ragazza che è scritta sulla mia pagina facebook e mi ha mandato una foto che vi faccio vedere allora questa è la foto credo che è una foto di matrimonio o una cosa del genere però è veramente basic, è veramente una cosa molto semplice da realizzare e niente, lei mi ha chiesto se potevo riprodurre questo tipo di trucco ed è quello che ho fatto oggi è veramente semplice come dicevo per quelle che iniziano il trucco sono cose basilare diciamo per gli occhi la sfumatura basilare perché abbiamo un ombretto abbastanza scuro verso la palpebra esterna e verso l'interno abbiamo un colore abbastanza chiaro solo questo c'è allora spero che in un video che vi piacerà non dimenticate di mettere un piccolo pollice in su se vi è piaciuto il video ovviamente quando avete finito di vederlo e se volete iscrivervi al mio canale mi farà piacere e noi ci vediamo la prossima volta vi mando un sacco di baci fatemi bene ciao 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 What we do here is go back What we do here is go back What we do here is go back